Il comune di San Rufo promuove la bellezza e lo fa concedendo, incomodato d'uso gratuito, un immobile di proprietà comunale ad acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e soggetti operanti nel campo della cura estetica della persona. La finalità è quella di eliminare la carenza di queste attività professionali sul territorio, ma anche stimolare sempre più giovani ad avviare progetti di artigianato. Un'operazione di ripopolamento per il comune guidato da Michele Marmo, che ha pubblicato il bando e individuato nel primo piano dell'ex municipio di Via Roma, recentemente ristrutturato, i locali ideali per poter svolgere questo tipo di attività. L'avviso è rivolto a persone fisiche o giuridiche, costituite da non oltre sei mesi dal lancio del bando, operanti nel settore della bellezza e della cura della persona, che dovranno svolgere attività coerenti con gli obiettivi e l'ambito dell'avviso ed essere in regola con il DURC. Sarà poi l'amministrazione ad effettuare i controlli su quanto dichiarato e a selezionare gli assegnatari che riceveranno l'immobile a titolo gratuito per una durata di 5 anni, mentre alla scadenza del contratto l'amministrazione comunale si riserva di rinnovarlo per una durata massima di altri 4 anni. Una volta selezionati, gli assegnatari hanno l'obbligo di iniziare la propria attività entro sei mesi dalla firma del contratto, una clausola necessaria per evitare che gli spazi vengano bloccati soltanto per utilizzarli per altri scopi. Si tratta di una grande opportunità per San Rufo, sia per incentivare l'inclusione sociale che l'incremento occupazionale dei giovani, ma anche per ripopolare di attività il centro storico, occasione già accolta da molti, ma per inviare le proprie domande c'è tempo fino al 4 novembre.